che avete portato un'energia fantastica, siamo veramente soddisfatti di avermi qui oggi. E' una soddisfazione lavorare con voi, sono finito. 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 Buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 e tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e tutti. . Grazie a tutti. 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 e tutti. . Grazie a tutti. e tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. . e tutti. e tutti. e tutti. . e tutti. e tutti. . 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